Allora Picco per noi sei stato il migliore in campo, smaltito completamente l'infortunio? Sì, dopo la fisioterapia è andato tutto bene grazie ai massaggiatori, partita dura, difficile ma per fortuna abbiamo vinto. Il rapporto con i compagni di squadra rispetto allo scorso anno è migliore? Sì, siamo un gruppo molto più unito grazie anche all'allenatore e serve perché la forza della squadra, il gruppo serve. Abbiamo sentito il suo procuratore e ci ha detto che a gennaio potrebbe andare via? Vediamo, magari qualche club più importante ma per il momento mi trovo bene qui e ci vedrà. E cosa diciamo ai tifosi adesso? Per l'intanto speriamo, dine bene questa serie positiva e dobbiamo sempre vincere. Ma è vero che vuole fare anche il giornalista oltre al calciatore? Beh per l'intanto va bene il calciatore. Cosa c'è di differente? I soldi, l'ingaggio.